signore e signori ben ritrovati nella serie della redcraft rieccoci qui che bello sto castello signori non vedo l'ora di finirlo e non vedo l'ora anche di guardarlo con un po di shaders dato che è uscita la 1.17 anche se noi dobbiamo ancora aggiornare effettivamente la 1.17.17 l'obiettivo di oggi signori è quello di continuare qua dietro soprattutto dove c'è questa tour perché voglio metterne un altro una uguale proprio giusto di qualche blocco più avanti in modo che andiamo finalmente anche a chiudere un pochino qui questa parte che si trova qui poi mi sono messo un pochino con world painter ormai è diventata la vita ragazzi quel programma l'ho utilizzato nelle versioni precedenti quindi 1.16.5 sì perché poi in 1.16.5 esiste world edit ed io per forza devo utilizzare world edit soprattutto se devo sfumare e fare un po di robette alle montagne che purtroppo comunque sono piene di errori quando vai insomma a creare il mondo con world painter nel mondo in creativa proprio qui dietro ho fatto una bella bella porzione di roccia ed è venuta pure molto bene infatti guardandola mi sono detto cavolo se l'avessi saputo prima no tutta quest'isola l'avrei fatta con world painter perché sarebbe uscita pure forse molto meglio alcuni non sono d'accordo perché dicono no mi piacciono le tue montagne anche se le fatte a mano che ci hai messo una vita sono comunque più belle però se guardate quelle di world painter cioè vista in lontananza sono molto più realistiche sì cavolo se l'avessi saputo prima ci avrei messo molto molto meno tempo e mi sarei concentrato più sul castello che comunque anche esso richiede tanto tanto tempo comunque in live ci siamo portati un pochino avanti abbiamo fatto anche delle leggere modifiche in questo punto qui creando più spazio soprattutto in questi punti che prima erano molto più stretti infatti abbiamo un pochino azzeccato queste scale ce l'abbiamo rese un pochino più strette non so se si nota la differenza però non erano così erano un pochino più larghe possiamo anche stringerci ancora e ulteriormente anche perché l'albero comunque vedete c'è entrato perfettamente qui in mezzo quindi non ci sono problemi abbiamo messo altre frasche per contornare il tutto come potete ben notare questi punti qui no che cacchio ho fatto l'ho rotto non ci credo sono più lunghi rispetto a queste altre tipo questo qui è più corto e anche quest'altro è più corto ma ci sta ci sta ora non so se avete notato qui c'è una colonna una colonna precisamente con dell'acqua dentro ecco fammi accendere la gamma override così vedete anche il tipo di blocco abbiamo usato il blocco di fungo così può essere tolto facilmente dentro c'è un tunnel d'acqua che ci permette di portare su dei mob finalmente signori abbiamo trovato anche un villager outpost e come potete ben notare signori stiamo popolando questo posto l'unico fattaccio dei pillager e che devi comunque disarmarli è un macello devi mettere lì e devi aspettare che si rompa la balestra eccetera eccetera però guardate che che fieri e immaginatevi sto posto pieno di sta gente che gira intorno tra l'altro abbiamo fatto una roba simpatica ogni sub che si sabba quando sono in live sulla redcraft avrà il nome sul pillager infatti come vedete qui c'è il buon nico un altro sub qui c'è un altro pillager che tra l'altro questo qua è fighissimo io non lo sapevo si possono portare anche questi qui con la bandiera cioè tu togli la balestra e loro hanno anche la bandiera e sono fighissimi perché questi qui secondo me sono perfetti all'entrata cioè immaginatevi l'ingresso del castello con due pillagers magari qui uno di qua così e un altro di qua messo in questo modo frizzati ovviamente che hanno anche queste bandiere dietro le spalle è fighissimo fighissimo sarebbe bello poter mettere loro delle bandiere tue purtroppo credo che non si possa fare quindi sì un altro obiettivo è quello di proprio popolare questo posto secondo me sarà un divertimento pazzesco bene 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 qui siamo nel mio mondo in creativa dove continuo diciamo questa mia costruzione prima di riportarla la schematica sapete già molti di voi questa questa cosa in questo punto qui ho aggiunto una buona porzione che non so se notate si vede cioè si vede che è presa da world painter è molto più naturale scende tutto molto più dolce mi piace mi piace molto come è fatta sta roba l'unica cosa che ho dovuto fare poi manualmente è cambiare un bel po di blocchi e soprattutto sfumare questa terracotta ciano che se messa così stacca tantissimo invece un blocco che veramente ci può aiutare tantissimo il tuffo il tuffo veramente ti crea quella sfumatura tra la cobblestone stone e la terracotta appunto di questo colore qui che è un colore abbastanza forte stacca tanto rispetto a quest'altro blocco qui quindi la 1.17 ci viene veramente tanto incontro immaginatevi di fare questa cosa nella 1.16 1.16 5 quelle robe lì non si potrebbe mai sfumare questo colore come vedete mi sto anche muovendo pezzetto per pezzetto questo è un altro pezzetto che ho portato sempre da world painter che mi aiuta infatti vedete questa montagna questa è presa proprio da world painter presa spiaccicata qui io pezzo per pezzo me lo vado diciamo a ritagliare con la schematica con la light matica poi lo aggiungo piano piano molte cose purtroppo le devo fare a mano per esempio questi pezzi tutti qui sotto le ho dovuti mettere io fino a questa altezza infatti come potete ben vedere qui c'è una sorta di ripiano ecco questo è dove c'è l'acqua e quindi è inutile che vado a costruire anche sotto andiamo nella red così vi faccio vedere che cosa ho riportato lì eccoci qui allora innanzitutto come potete vedere ci sono anche delle cose in più che non sto facendo nel mondo in creativa come per esempio mettere delle pianticelle soprattutto da quest'altro lato ho fatto un test e sta venendo veramente una figata ho messo un sacco di questi blocchi i blocchi di leaves di birch se non erro sì perché sono di un colore particolare che non va a cambiare in base al bioma resta sempre lo stesso non so per quale motivo però è l'unico blocco insieme non so quale forse sì no forse è l'unico blocco insieme forse allo spruce sì che non cambiano colore in base al bioma non so per quale motivo hanno scelto questa cosa quelli di minecraft però vabbè ho preso questo blocco e l'ho iniziato ad inserire nelle insenature come posso dire in questi punti chiusi mettendo anche la cobblestone muschiata la cobblestone muschiata ci rende il tutto più naturale come se la pianta andasse un pochino anche dentro la pietra come giusto che sia perché è così che dovrebbe essere ora direte voi perché non ci metti anche effettivamente il play stable il famoso play stable che adesso non esiste più perché basta che clicchiamo col tasto destro e ce lo mette non lo faccio perché semplicemente il grass cambia colore ragazzi infatti dovrò toglierlo per tutte queste parti qui vedete guardate quanto è acceso fluorescente in altro poco dobbiamo toglierla da tutte le parti e lasciare solamente le leaves di birch ora quello che è stato fatto fino ad ora è questo ho messo finalmente quest'altra torre ho chiuso un pochino la situazione come potete ben notare qui c'è uno stacco netto perché dobbiamo riportare tutte quelle montagne che purtroppo ancora non sono finite non toccano l'altezza giusta e non sono chiuse da tutte le parti ok mi sono anche portato avanti per quanto riguarda i pillagers stanno aumentando piano piano infatti vedete ci sono altre persone qui ho preso anche questo che bisogna ancora debalestrare se così si può dire e poi ne ho aggiunti altri qui sotto se non erro sì forse questo qui sì l e altri anche buttati in altri punti della mappa come per esempio questo qui infatti ho dovuto fare anche un cambiamento qui ho dovuto mettere queste cose perché le iron bars purtroppo le legge come un blocco e quindi tu cioè puoi saltare effettivamente le iron bars questa è la cosa fastidiosa quindi ho dovuto mettere questi gates in modo che questo pietro non scappa sono un sacco soddisfatto e contento di questa cosa purtroppo ci vuole tempo per portarli questi amichetti ma ci divertiamo ci divertiamo veramente un botto che poi riguardando sto robetto qua dietro mi rendo conto che effettivamente possiamo portare o costruire in questo caso qualcosina in più ebbene sì signori ci siamo portati ancora avanti guardate che bel pezzettone che abbiamo fatto peccato solamente per la sabbia che ragazzi una rottura incredibile fare questa la gente giustamente si scoccia di vedere me piazzare blocchi soprattutto in live proprio sott'acqua di questo genere fino alla ghiaia precisamente però insomma comunque godiamoci questo bel pezzettone che abbiamo fatto qui dietro che va finalmente a contornare un pochino il tutto sì effettivamente se facciamo qualcosa che si va appoggiare anche a queste montagne che si trovano qua sotto secondo me può uscire qualcosa di veramente veramente molto figo tra l'altro un'altra cosa figa che dovremmo fare è mettere un'altra di quella torre lì che si va a raggiungere tramite un ponte parlo proprio di questa torre qui è proprio bella cioè è bello il ponte bella la torre che è un pochino staccata ecco dovremmo metterne di più di queste cose assolutamente anche perché questa è la sola e unica torre distante da tutte le altre costruzioni tutte le robe tra l'altro c'è anche un tizio dentro non so se veniste accorti un altro sub grazie ragazzi veramente che vi state sabbando in tanti state supportando il buon uso in questo periodo tra l'altro ho portato anche un altro tizio qua sotto se non erro sempre se non è stato ucciso ma penso di no perché comunque sono pillagers infatti eccolo qua è un altro ragazzotto che si trova qui il giardino ovviamente non è finito dobbiamo chiudere anche questo punto qui però sì quest'altro bel pezzettone di montagna l'abbiamo fatto e sono contento anche del fatto che toccano tutti quanti l'acqua questi blocchi tranne ovviamente arrivate ad una certa tipo qui quasi apre proprio tutto un varco che è l'unico varco rimasto se non erro sì se andiamo a chiudere tutta sta roba abbiamo praticamente quasi finito le montagne stesse come sono finiti pure i razzetti dannazione così possiamo iniziare anche a pensare a qualcosa per quanto riguarda gli interni di sto castello perché guardate da qua che schifo oddio inguardabile fammi vedere se ho dei razzetti qui no non ce l'ho non ci voglio credere uno dei razzetti che palle questo comunque è il percorso che fanno i nostri amichetti non ve l'ho fatto vedere in video però ve lo spiego velocemente praticamente noi li portiamo da un portale che è collegato nel nether ad un altro portale che ti conduce alla pillager farm se così possiamo dire come si chiama bastione dei pillagers vabbè avete capito quel coso quel patacchio enorme dove sponano solo ed esclusivamente pillagers li rinominiamo per forza perché altrimenti desponano li portiamo con i kart li facciamo arrivare fin qui e poi li facciamo salire tramite questa colonna di bolle che ti portano direttamente in alto alla torre quella più alta di tutte le torri però non ti porta proprio soprattutto quello prima del della torre più alta insomma della parte più alta poi immaginatevi anche tutti gli interni sta roba e popolare questi con altri pillager sperando che non vadano a farci laggare un po questa parte di mondo ma penso di no dai cheat non lo so signori ci vediamo in un prossimo episodio spero che questo vi sia piaciuto datemi anche dei consigli per quanto riguarda proprio la parte dietro al castello che veramente non so come fare ancora magari mandatevi proprio delle immagini sarebbe veramente più gradita la cosa in modo che prendo spunto da queste perché poi io prendo spunto da immagini vi ripeto ve l'ho sempre detto seguitemi su telegram seguitemi su instagram attivate la campanellina di youtube noi ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti ragazzi